Ma cosa stai facendo? Ti si è spiladita la moto, è diventata gialla. Ma perché ti sei fermato qua? Che lo fai sbagliare? Piano con il davanti. No dai, e tirala sui piedi, tienila sui piedi piano, tieni il piede sul dietro sempre e tieni il frenato col dietro, lascia dentro la marcia, oh, stai indietro col culo, indietro tutto, bravo, lasciala correre giù piano e guidala e basta. Bravo, così, bravissimo. Bravo, 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 bravo. Chi c'è su? Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo, viya. Bravo, bravo. Bravo, bravo, vi hai suolo. che discesa di merda che è diventata allora tirati via se sono in terra che cazzo mi tiro via sono in terra da fermo sono caduto da fermo qua adesso mi si è girata sotto dietro il sedere a 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 Grazie a tutti.